Nikon Z63 la fotocamera che mancava almeno in casa Nikon Cari amici ben arrivato in questa riflessione fotografica lo sapete sono video nei quali provo a analizzare alcuni aspetti che riguardano il mondo della fotografia oggi parliamo appunto di un modello atteso super atteso stratteso soprattutto dai Nikonisti e soprattutto dagli avanti della Nikon Z612 insomma i modelli precedenti Z63 fotocamera di cui ho già parlato e che sostanzialmente ho imbroccato diciamo tutti i punti qualche giorno fa vi ho dato insomma un po' tutte le specifiche in anteprima vi ho detto insomma cosa potevamo aspettarci da questa fotocamera in effetti le prestazioni dichiarate da Nikon sono le performance i numeri insomma di targa dichiarati da Nikon sono di altissimo livello fotocamera che sostanzialmente è stata rivista quasi a 360 gradi quindi brava Nikon per averci fatto attendere un bel po' però almeno hai modificato in maniera sostanziale la Z612 fotocamera che intanto utilizza il nuovo sensore sempre da 24 ma diciamo semi stagged come l'ha dichiarato Nikon la cosa importante che sia una fotocamera che oggettivamente vada bene dal punto di vista di sensore soprattutto l'otturatore elettronico grazie a una velocità di lettura dei dati estremamente rapida non arriva ai livelli del sensore stagged Z8 Z9 ma comunque molto molto rapidi almeno quello che ha dichiarato Nikon quindi questa è una cosa molto importante parliamo di una fotocamera che ha un nuovo processore che deve spingere tanto perché le prestazioni video di cui vi dico far poco ma anche autofocus sono di altissimo livello 14 fotogrammi al secondo in meccanico e insomma in elettronica arriva fino a 120 fps ovviamente non in raw ma comunque numeri da capogiro c'è anche il prescatto quindi anche qui insomma velocità di lavorazione estremamente elevata ma soprattutto parliamo di un modulo autofocus che deriva dal sistema Z8 Z9 dicono ancora più performante per quanto riguarda la capacità di tracking insomma staremo a vedere comunque già Z8 Z9 a breve uscirà anche la nostra recensione sulla Z8 per cui vi faremo sapere insomma cosa ne pensiamo lato video ragazzi fotocamera che spacca veramente ha dei numeri delle delle prestazioni pazzesche perché parliamo di un 6k fino a 60p e poi un nro quindi importa utilizza insomma il codec già presente sulla Z8 la Z9 elemento che fu anche di discussione con red sapete che poi nikon alla fine ha tagliato la testa al toro acquistando red e quindi facendo finita con le diatribe diciamo giudiziarie fatto sta che il comparto video è veramente notevolissimo e quindi questo apre nuovi scenari e nuove opportunità per gli utenti nikon nel mondo video senza dover per forza accedere a fotogamera ben più costose quale la Z8 e la Z9 anche il mirino è stato completamente rivisto perché è un mirino da 5.7 milioni di punti ma soprattutto copre lo spazio colore il gamut p3 che è diciamo un gamut un profilo utilizzato molto in ambito cinematografico questo ancora una volta a sottolineare la vocazione del della Z6 in ambito video Z6 3 ovviamente sto parlando in ambito video spazio colore più ampio per il rosso e per il verde la direttora della dobi rgb questa cosa mi fa piacere perché almeno qualche produttore capisce che anche insomma la visualizzazione nel mirino è molto importante soprattutto per chi è abituato ai mirini ottici come insomma gli utenti nikon che venivano da nikon reflex di altissimo livello pixel shift ma non in camera quindi possibilità di arrivare a 97 milioni di punti purtroppo non è possibile farlo in camera nuovo sistema cloud dal quale è possibile scaricare e caricare dei profili colore particolari insomma fotocamera ragazzi tanta tanta roba display orientabile completamente che farà la felicità dei videomaker e i vlogger ma l'odio da parte dei fotografi vabbè insomma questa è una fotocamera più orientata al video si capisce palesemente allora cerchiamo di analizzare un attimino che quali sono gli scenari possibili cioè che impatto può avere sul mercato che impatto può avere sul la concorrenza e così via io ho già detto nella precedente riflessione fotografica che secondo me questa z63 ragazzi non andrà non credo che andrà a intaccare più di tanto le quote di mercato di canon e di di sony diciamo i leader del mercato perché dico questo perché in ambito video un videomaker che già nel mondo video sicuramente utilizzerà o sony o canon qualcuno panasonic ma sicuramente avrà fatto tutta una serie di investimenti importanti non parliamo solo di corpi e lenti ma parliamo anche di accessori attrezzatura insomma complementari che sapete nel mondo video sono molto importanti questi aspetti quindi io dubito che uno che ci lavora o comunque sia che magari fa lo fa come secondo lavoro ci lavoricchia e ha speso migliaia di euro adesso vende tutto rimettendoci 4 5 mila euro perché i cambi di sistema ormai sono talmente cari i prezzi che i cambi sistemi ti stroncano le gambe per cui io la vedo dura che uno possa fare un passaggio di questo tipo anche perché sa che sicuramente canon e sony in primis ma anche panasonic a breve cioè parliamo di fra un po di mesi tireranno fuori un prodotto che sarà concorrente alla pari se non superiore alla nikon z63 quindi che senso ha fare un investimento del genere per l'nro sì potrebbe essere un elemento sicuramente importante però onestamente non sono così convinto che sia sufficiente per fare uno switch di sistema il fotografo la stessa cosa cioè questa z63 sicuramente va molto meglio a livello di autofocus rispetto alle vecchie z6 ma comunque sarà insomma a livello delle migliori sony delle migliori canon cioè sostanzialmente non è che canon e sony vanno male lato autofocus per cui ancora una volta se io ho investito i soldi per fare magari vi fa una fotografia sportiva e te le obiettivi importanti cosa faccio vendo tutto per prendere nikon ora se sono un vecchio nikonista un amante del marchio ci può stare perché quello è l'amore che ti spinge più che la ragione no mi sembra abbastanza ovvio ma se invece sei razionale capisci che questa z63 cioè non è che ti fa fare un salto di qualità particolare no insomma prestazione il sensore è più o meno lo stesso il la raffica più o meno la stessa insomma non è che ti cambia la vita quindi chi comprerà questa z63 secondo me la comprerà soprattutto la compreranno soprattutto gli utenti in casa nikon cioè le persone che magari oggi hanno una z62 che hanno una z6 che hanno aspettato qualche utente z8 per il secondo corpo macchina qualche utente z9 per il secondo corpo macchina qualche utente reflex che insomma gli mancava praticamente voleva una sorta di z8 ma era troppo grande quindi aspettato pensiamo a chi utilizzava tipo una 750 cose di questo tipo una 780 eccetera quindi io vedo due cose importanti intanto un numero di vendite importanti ma soprattutto all'interno del parco diciamo clienti nikon e volendo in casa fuji perché fuji ha l'h2s che in qualche modo si sovrappone a questo sistema un pochino più economica però è anche vero che è una psrc e non ha poi insomma proprio tutte le caratteristiche video di questa z63 ma il problema di fuji in questo momento è che l'autofocus non è performante come sony come canone e in questo caso anche come nikon per cui qualche utente fuji potrebbe dire basta adesso va bene alla fiducia va bene all'amore per il marchio mi sono stancato ho sempre avuto simpatia per nikon e quindi fa questo tipo di passaggio qualche utente panasonic che ci potrebbe stare perché magari non è contento insomma della reattività del marchio panasonic che è sempre un po' bra di pesca nel apportare insomma i modelli nuovi cambiamenti eccetera eccetera insomma qualche cambiamento ci potrebbe essere ma non sono convinto che questo modello possa spostare enormemente significativamente le quote di mercato ragazzi quindi è un modello sicuramente azzeccato è un modello che sicuramente sarà a mio giudizio il modello più venduto di fotocamere nel 2024 ma è un modello che in qualche modo si troverà a scontrarsi con delle fotocamere in una nicchia di mercato super competitiva quindi con la sony a7 5 sicuramente con la canon r6 mark 3 sicuramente con la nuova panasonic s2 per cui in questo momento venderà bene farà bene la z63 sicuramente adempierà il compito di convincere ancora alcuni utenti nikon a fare alcuni passaggi all'interno insomma tra i vari sistemi vari prodotti nikon e soprattutto tamponerà definitivamente l'emorragia la possibile emorragia di videomaker da nikon ad altri brand oppure da nikon ad altri marchi per perché dice ok z8 si va bene z9 va bene ma io 6.000 5.000 euro non ce l'ho e quindi alla fine preferisco marchi un pochino più economici quindi secondo me come dicevo prima questa è una nikon che ci voleva e che mancava ma proprio per nikon più che per il mercato nel suo insieme fatemi sapere cosa ne pensate siete d'accordo non siete d'accordo voi siete nikonisti la comprerete se sì perché non la comprerete perché pensate da un altro brand di passare a nikon prendendo questa fotocamera vi convincono le specifiche vi convince il prezzo insomma fatemi sapere perché insieme a roberto poi faremo una nuova riflessione fotografica dove faremo riferimento ai vostri commenti aspetti i vostri commenti mettete un like ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi